abbiamo abbiamo tutti il grande quincone delle celebrità sì no perché non l'hai non l'hai linkato maiali l'ho linkato ecco l'ho linkato ecco l'ho linkato ecco l'ho linkato no non è questo il questo è celebrità vai l'ordine è quello di team speak raga l'ordine è quello di team speak manucso fazzone gianco masseo mollo io quanti siamo no 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 quello di gianmarco ok ok ci dobbiamo ci dobbiamo ferma 96 c'è l'ultimo però ricorda in caso di parità dopo le 96 chi risponde prima prende il punto 2 1 vai donna che ansia che mi mettono ragazzi ti giuro che non ci sta no no ma non c'è un punto che si fa parte per maestro ton cruis oh ma non si deve vabbè will smith no ragazzi sta andando tutti quelli semplici non ne vi ho una hai capito è finita e iron man roba di jr bravo e il gil diesel ok vediamo chi mi dà le bro james no sono finiti tutti quelli che conosco Gordon Ramsey si o no ragazzi si o no bravo giusto cyberpunk ho dovuto pensare drake vabbè mamma mia mamma mia emily retikoski te fregna ma che stai kendall jenna ma no ma che stai ma che stai bravo bestie ma senti ma guarda quella che gli dà ma trovo che è dal lux la bocca a me è zendaya che fregna a 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 jason christopher ma che cazzo è qui la pazza a mamma mia veramente brucia madonna jackie chan sempre di champagne con jackie chan alvaro a 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 grazie è uguale l'ho detto io ma ha dato roba figa mcgregor come a 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 il trauma di domani non sta riuscendo a